Eddie Murphy è un poliziotto di Napoli. Ha due doti fondamentali. Un grande spirito d'osservazione e un'astuzia diabolica. Brigitte Nielsen è una bionda pericolosa. Donne! Il loro incontro non può che provocare il cintino. Yo baby, yo baby, yo, yo, yo baby! Beverly Hills Cop 2, sabato 20 e 40, Italia 1.